E benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qui con Flavor! Ciao ragazzi! Oggi giocheremo a Brawl Stars! Faremo una gara! Io ho scelto di Brawler Shelly, Frank, Piper e Bibi Io invece Bibi è il primo, Bibi è il primo, Frank e Shelly. Inizio io con Shelly E se tutto va bene, vinciamo le partite, ci mancano 15 o 20 copie e apriremo un baule insieme. Esatto! Vediamo, là c'è un piccolo Bombardino! Cosa vuoi farmi Bombardino? Che sei già morto Bombardino! Muore, cassa! Ok, ho già un energy per a poco! Ma quel Bombardino ne ha due, dove va? Ma è stupido! Vai, vai! Che idiota! Non muore, c'è danno! Ma non è vero! Guarda, mi hai fatto un danno! Boom! 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 Ma va! Sesto! Sesto io! Sommeremo le posizioni! Chi avrà più punti perderà! Tocca a te, usi Shelly! Ecco, ora gioca a Flavio! Sono arrivato sesto, quindi ho sei punti! Tipo io arrivo primo, arrivo un punto! Sì! Chi ha meno punti vince, come in golf! È meglio adesso! Attento Barilu! Dove è finito Barilu? È andato là dentro! Va bene! C'è un po' c'è bagasse! No! Dentro la cassa! Non me ne vado, non voglio essere morto al primo partito! Unito! C'è unito, c'è unito, c'è unito! Non voglio morire! Non si campera in sto gioco! Noi non sto camperando! Allora, vediamo! Attento, muori po' c'è! Che forza! Io sono... Siamo nella quinta posizione, c'è solo due power up! Ha morto un crow! Un corvo! Uh, c'è una rosa! Non voglio essere preso, però... Uh, c'è una Pam! C'è una Pam! Ahia! Il mio brawler preferito è Pam! E invece c'è il mio sia Leon sia il primo! Qua c'è una Pam, l'ho vista! Non ho paura! Io ce n'ho due, non è che manca tanto! Diventiamo amici, dai! Così ti ammazzo! No, questa Pam... Non fate mai amicizia con Flavor! Vi killerà di sicuro! Questa Pam la mi stavo già odiando! Pam! Quella rosa non ce l'ho aspettata! Siete in tre, credo che ce la vinci! Non lo so se vini! C'è Pam lì? Che rompe! Terzo! Terzo! Io sesto, lui terzo! Lui ha tre punti, io sei! Ah, è un po' di pastella! Ci manca quante poppe? Tredici! Tredici! Ora io vado con... Big! Big! Allora... Andiamo subito al centro, dai, che ci stanno un botto di cassa! Fino adesso il punteggio è di... Quanto siamo? Tre per te e sei per me! Sta vincendo Giovanni! Sta vincendo io, volevo dire, scusate! Esatto! Invece io sto perdendo! Stai dentro lì! No, 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 non ho molto Wi-Fi, raga! Ah, cacchio! Rosa, rosa, rosa! Ma va, è arrivato l'ottavo, Giovanni! No, no, scherzo! Io sono quello, io... C'ho solo centomila trofei! No, ne ha... Ne ha novemila e qualcosa, lui! Novemila e qualcosa, però, sono tanti! Bellissima! A me mi piace i bibi, però non la trovo! No, è una bella brawler! Lui è sfigato e non trova un cavolo! Ho trovato Eugenio solo ieri! Eh, anche Tara e Mortis, guarda! C'è tutti i miti qui! Ragazzi, se non lo sapevate, sapete che è una skin di Mortis e Mortis, strega noturna di Clash Royale? Si poteva sciopare nella festa della donna! No, adesso mi amò! Dai che arrivi anche a te, Ottavo! Giovanni, non mi frego, non mi faccio fregare da te! Io bufo! Come sta andando? Sono... C'è 7 power up! C'è un colch che rompe! No, 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 devo prendere! Oh! Adesso c'è la bolla di... No, vuoi più! Che ho lanciato anch'io, però! Che ho lanciato anch'io, però! Credo che lui ci arriva sempre! C'è un barrel, un barrel, un barrel, in inglese, in inglese sapete che stecca si chiama Rico? Si! Che nome? Adesso la voglio buttare nella, nella, nella pupù! Nella pupù! Non ci arrivo a prenderla! Allora ti butta lei! Adesso mi butta lei! Che volo! Mi sa che adesso siamo... Lag ha un po' sto, sto tablet, però va bene! Eh ma no, è perché non ho molto wifi! Scrocco giga del wifi della stazione! Se volete fare un salto da Flavio, salutarlo, dirvi qualcosa, potete ritrovarlo a Loano, nella stazione, sotto la stazione più oltre Nino per i bambini! Leone è in pro... Madonna che scontro! Loano è in provincia di Savona, in Leveria! Oh Maremma, mi ha ucciso! Allora lui è arrivato secondo, più terzo, più cinque, io otto, più sei, fa quattordici! Ora io uso pre... No, è il primo! Dai! È il primo! Sì, ora! Speriamo di aprire un baule e trovare un bel leone! Eh, leone! Sarà dura! Una roba impossibile! Diciamocelo! Leone non lo troverò mai! Non lo trovo neanche un mio amico che ha... A me mi mancano solo sei brawler! Sì, ma c'è Piper! C'è Piper che fa la mongola! I tre leggendari... Pam, Bibi, Pam, Bibi e Piper! I tre epici e tre leggendari! Perché lui è culato, fortunato, 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 ma molto! Giovanni, non parlare mai di me! Ma tanto fortunato! Stavo finendo... Allora, vediamo... C'è quello lì che mi dà fastidio... Boh... No, sceglie store! Poco a poco scelgo il meteo rete! Dopo io scelgo Piper! Io... Non dimenticatevi di mettere tanti pollicioni all'infu nel... nel club Gio77 e te pro! E iscrivetevi al canale! Eh, se volete, commentate! Commentate che è stato il più forte! Eh, infatti! Ditecelo però, raga! Eh... Gradiamo molto ai commenti! Noi siamo... Siamo felici di aver fatto un gruppo YouTube! C'è una Piper... con quattro Power Up... e una Shelly con cinque Power Up! Cavolo, mi ha lasciato! Giovanni, ti vuoi muovere? Sì, dai! Ci metto qua! Piper, però... Uuuuuh! Terzo! Di lì che dobbiamo finire il robo! Veloce, un attimo! Allora... Flavio fa l'ultima partita! Una Coppa! Una Coppa per... Io scelgo... La Fini Piper! È l'ultima partita! Sì, che... Ma scelta! Può rifarla! Sì, può rifarla! Lui... Abita a Torino! Se non lo sapete! Sì, io abito a Torino, se volete incontrarmi... Un giorno... Un giorno... Un giorno... Un giorno... Un giorno... Dove ho finire la partita! Sì, io abito a Torino, se volete incontrarmi... Sì, io abito a Torino, se volete incontrarmi... Allora, vediamo... Ho vinto io! Flavio ha perso! Ora... Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao, ciao!